Il 3 febbraio 1942 sono partito per la Russia. Non davvero, io papà c'è per il sbaglio. Non davvero. Veramente vergognoso sarebbe stato restare a casa mentre gli altri rischiavano la pelle e andando in guerra. Giuseppe ha combattuto la mia gente, ma non riesco a sentirlo nemico. Ha sofferto, è stato prigioniero e da quando è tornato non ha mai smesso di condividere con gli altri la sua storia. Il 3 dicembre ero a casa e il 24 dicembre ero prigioniero. Maestra, dimmi Mattia, il libro stai leggendo? La Rusovka, che noi abbiamo chiamato la Valle della Morte, dai tanti morti che c'erano dispersi in giro per la vallata, siamo stati presi i prigionieri e non c'è stato niente da fare. Avevano l'ordine di non lasciare persone vive sul terreno, no? Sono morti a centinaia, anche così gli italiani in ritegato. Tre cose non abbandonano mai Giuseppe durante tutta la prigionia. L'orologio, la fede e la passione per il disegno. I morti non era che li trasportassero di giorno, li trasportavano di notte per non far vedere alla popolazione quanta gente moriva nei campi. Si scherzava con la morte scavando la tomba. Meglio morire, dicevo qualcuno. Io dicevo meglio vivere per ritornare e raccontare questa esperienza tragica da cui ero riuscito a uscire vivo. Questa è la storia di Giuseppe Bassi. Bassi l'ora. Grazie. Grazie. Grazie.